Oggi vi sveleremo i segreti per preparare un autentico porcè du sardo. Un piatto ricco di tradizione, dal sapore inconfondibile, che porta con sé tutto l'amore per la nostra terra. Iniziamo dalle materie prime. Il protagonista indiscusso è il maialino. Ricordate, deve essere giovane e non superare i 6 o 7 chilelo di peso. La qualità della carne è fondamentale per assicurare un risultato eccellente. Perfetto, cominciamo a parla del porcè du sardo, un piatto inconfondibile della tradizione culinaria sarda. Il porcè du sardo è un piatto molto antico, che risale alle tradizioni agropastorali della Sardegna. È un maiale arrosto, cotto alla brace, molto amato dagli sardi. Il segreto del suo sapore unico risiede nella cottura lenta. Questo permette alla carne di rimanere tenera e succulenta, mentre la pelle diventa croccante e dorata.